allora buongiorno buongiorno a tutti l'accademia di belle arti cultrice delle materie allora il capo dipartimento professoressa antonella marino la coordinatrice del corso la professoressa chiara fiorotti e la docente di pedagogia ed storia dell'arte contemporanea professoressa maria vinella insieme alla a una studentessa un'estra nostra ex studentessa che ad oggi appunto svolge l'incarico di cultrice della materia che francesca tolomeo io ringrazio ovviamente le colleghe e in qualità di direttore dell'accademia di belle arti di vari tra le cose appena appena rieletto mi tocca farmi tocca nel senso bello del termine fare questa presentazione per questo corso che è arrivato per ultimo non ultimo arrivato non è arrivato per ultimo e che è stato fortemente voluto dal sottoscritto che io insegno la materia di beni culturali ambientali quindi una materia di tipo teorico ed è il corso didattica dell'arte io trovo fondamentale nell'offerta formativa di un'accademia di belle arti nello specifico verso le mie colleghe tutte tutte titolate veramente molto molto capaci entrano nello specifico di quella che l'offerta formativa di quelle che sono poi tutte le possibilità di sbocchi e vi dicendo da direttore io vi dirò che l'accademia di belle arti ad oggi insiste su due flexi diciamo su due strutture una e amari e l'altro e amora però didattica dell'arte sarà concentrata l'attività a vari in via davide e quindi è un abbiamo abbiamo approfittato anche se il termine non è molto pertinente forse in questa pandemia per mettere a posto la sede di dire davidi io questo non è successo quindi questo in questo caso mi sono ho potuto voglio dire non mettere a norma per quanto riguarda tutta la parte di poco e quant'altro una sede che ad oggi con tutta una serie anche di sul tuo quindi dai computer al biblioteca che adesso abbiamo ampliato di dicendo insomma ci siamo abbiamo approfittato di questo momento di questi 15 mesi per poterci come dire per trovare pronti ad ottobre con delle aule nuove e soprattutto con una giusta destinazione per quanto riguarda appunto la parte relativa ai corsi che poi all'interno di queste aule si dovranno si dovranno tenere quindi io adesso passo la parola alla professoressa chiara firozzi la cosa che posso dire che non è sicuramente una minaccia il primo professore che voi incontrerete quando riscriverete e qualora chiedete di scrivere l'accademia da il sottoscritto perché io insegno appunto beni culturali il primo anno al corso in artitella non è casuale perché trovo anche direttore però non ho non ho non ho rinunciato all'insegnamento perché trovo che sia giusto accogliere gli studenti dal primo giorno e cercare di dare loro tutte le informazioni chiaramente dietro agli studenti ci sono le famiglie e quindi anche giusto e in un certo qual modo soprattutto in questo momento molto particolare che possa essere un'accoglienza degna di questo nome insomma quindi da parte mia ci sarà tutto l'impegno per far sì che i ragazzi possono essere seguiti in modo in modo ottimale quindi io ringrazio tutti i partecipanti e passo la parola alla professoressa chiara firozzi grazie direttore grazie mille pomeriggio a tutti benvenuti insomma questa a questo pende dedicato alla didattica dell'arte una scuola che come anticipava il nostro direttore è una una scuola neonata ha soltanto un atto di vita e si inserisce diciamo pienamente all'interno di tutte le attività teorico pratiche dunque formative che vengono ad essere fruite dagli studenti e dunque vengono ad essere anche presentate in queste giornate di di open day l'accademia di belle arti di bar è un'accademia che ha 50 anni e appunto continua una una sua tradizione sempre avendo un uno sguardo al presente uno sguardo al futuro motivo per il quale insomma la la scuola di didattica è una scuola che si inserisce all'interno di una una diciamo una proposta formativa che viene fatta da non tutte le accademie sicuramente diciamo tra le accademie del sud bari come appunto anche l'accademia di di napoli sono appunto alcune fra le accademie che offrono il corso il il triennio di della scuola appunto di didattica dell'arte e insomma sono una docente naturalmente insegno all'accademia di bari ma insegno anche al al biennio al triennio di didattica dell'arte ehm all'accademia di napoli e quindi insomma spero con il mio eh contributo anche se sono nuova all'accademia di belle arti di bari di poter diciamo contribuire alla crescita di questa di questa scuola a cui crediamo crediamo molto ehm inizio con il condividere un po' di materiali in modo tale da farmi aiutare da un po' di di grafica nella presentazione nella introduzione di questo di questo corso che poi diciamo man mano verrà sviluppato anche dagli altri eh docenti eh oggi presenti. allora eh innanzitutto insomma qui mi avete la eh vi mostro la copertina del manifesto agli studi duemilaventi duemilaventuno la guida dello dello studente una guida che può essere tranquillamente insomma fruita all'interno del sito dell'Accademia di Belle Arti di eh di Bari eh insomma l'Accademia di Belle Arti di Bari è un'istituzione di alta formazione artistica e e che diciamo offre una proposta formativa completa nell'ambito delle delle arti una proposta formativa eh completa che appunto si si sviluppa possiamo dire che si eh accresce sia da un punto di vista pratico sia da un punto di vista teorico quella che è la prerogativa delle 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 accademie quindi dei corsi di alta formazione artistica è proprio la fusione tra eh le l'aspetto teorico e l'aspetto e l'aspetto pratico. Naturalmente l'iscrizione a l'Accademia ha diciamo presuppone di di requisiti di ammissione ovvero naturalmente il il diploma eh delle scuole di scuola di scuola superiore eh attraverso il quale si può accedere al primo livello triennale eh del per conseguire appunto il il diploma accademico di primo livello eh e poi diciamo proseguire con appunto il biennio specialistico con appunto il conseguente raggiungimento del diploma in secondo eh livello. Eh le la la laurea insomma di di primo livello unita a quella di eh di secondo livello eh ai fini dei concorsi pubblici e equipollente appunto ai diploma al diploma di laurea e al diploma di laurea magistrale rilasciato dalle ehm università. Eh il primo livello insomma il diploma di primo livello è ha una durata triennale e naturalmente il conseguimento della laurea è anticipata dal conseguimento di centottanta crediti formativi e mentre invece insomma il l'iscrizione al al secondo livello appunto al secondo livello presuppone appunto la durata di ehm degli altri due anni appunto del corso del corso specialistico. eh l'Accademia di Belle Arti si suddivide, l'Accademia di Belle Arti di Bari si suddivide eh in diversi dipartimenti, il dipartimento di arti visive, il dipartimento di progettazione e arti applicate e il dipartimento di comunicazione e didattica dell'arte. Dunque il corso che oggi stiamo presentando, il corso di didattica dell'arte è una scuola che afferisce al dipartimento di comunicazione e didattica dell'arte. Eh la la concezione insomma dei dipartimenti non è una concezione fatta diciamo a compartimenti stagni ma eh c'è una certa interdipendenza, c'è una certa fluidità che consente anche un scambio interdisciplinare e diciamo formativo sotto i vari punti sotto i vari punti di vista. Eh nel caso specifico eh la proposta formativa del corso di primo livello di didattica dell'arte ehm è rivolto a studenti interessati ad una formazione teorico-pratica e tecnico-operativa di metodi e contenuti della pratica artistica, comunicazione, allestimenti, museologia, museografia e didattica dell'arte. Possedere strumenti metodologici e critici adeguati all'acquisizione di competenze relative ai linguaggi espressivi delle tecniche e tecnologie più avanzate. Acquisire conoscenze pedagogico-didattiche e termeneutiche per progettare percorsi di apprendimento. Acquisire adeguate competenze culturali e tecniche di nuove tecnologie multimediali di comunicazione. Essere in grado di esprimersi e acquisire informazioni in una lingua straniere europea. Possedere un'adeguata conoscenza di strumenti informatici e comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. Cosa si studia? Bene, qui sono diciamo ecco elencate eh le le materie, i corsi che andranno poi a strutturarsi all'interno dei dei tre anni. Eh e ogni anno, quindi primo, secondo e terzo anno sarà caratterizzato da una serie di appunto attività formative che a loro volta si suddividono in attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative integrative e ulteriori eh attività eh formative. Eh come appunto si può eh vedere le ehm le le materie che vengono ehm che si che si sviluppano al primo anno ma così come anche al al secondo e al terzo anno si strutturano tra competenze e e e materie pratiche teoriche e ehm e teorico pratiche. Sicuramente il corso di didattica dell'arte è un corso che ha un cuore eh teorico ehm probabilmente anche un po' più forte ecco strutturato delle delle eh degli altri corsi di eh di laurea proprio perché è finalizzato appunto anche al raggiungimento di un certo ehm di una certa formazione e professione nel 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 campo appunto della didattica e della e della pedagogia. Eh quindi eh le tra le prime materie appunto che gli studenti dovranno affrontare ecco e dunque approfondire ci sono i corsi di estetica, c'è il corso di arte antica, di antropologia culturale che appartengono appunto ai corsi di formazione di di base, c'è il corso di metodologia e teoria della storia dell'arte, un altro corso insomma legato alla storia della critica d'arte e al appunto a quello che è ehm diciamo l'ossatura proprio della della costruzione della storia dell'arte. Poi c'è il primo dei laboratori che appunto eh appartengono alle attività formative, integrative e affini, un laboratorio di di scultura dove appunto a fianco qui nelle altre caselle potete naturalmente vedere il numero dei crediti formativi che vengono appunto attribuiti ai vari corsi eh conseguentemente le ore di di lezione e appunto il tipo di valutazione e il totale dei crediti eh dei crediti formativi. Il eh laboratorio di scultura vedete ha un ha un monte ore di cento di centocinquanta. eh tra ancora scorrendo ancora le attività formative integrative e affini ritroviamo il corso di beni culturali e ambientali che appunto è stato anticipato dal direttore Echielli è appunto il è il docente che eh troverete appunto al primo al primo anno. Ulteriori attività formative che vanno a completare il eh la formazione dello studente ritroviamo il corso di inglese e i fondamenti di informatica. Eh stesso diciamo griglia stesso eh appunto modello di divisione tra attività base caratterizzanti e integrative si ritrova anche al al secondo anno dove appunto si passa la storia dell'arte moderna a quelle che sono le eh una materia fondamentale come la psicologia dell'arte ancora una materia come teoria e metodo delle mass media che appunto di fatto mh allarga l'orizzonte verso una ehm diciamo andando verso e costruendo potremmo dire uno sguardo sempre più moderno e sempre più contemporaneo a pratiche di animazione ludico creative didattica per il museo altro diciamo attività formativa caratterizzante e infine anche anche pedagogia e didattica dell'arte. Tra invece le il laboratorio che viene svolto al al secondo anno sarà poi quello di ehm dedicato appunto alla alla pittura. Eh il totale dei crediti formativi del del secondo anno come per il primo saranno di ehm di sessanta eh CFU. terzo anno sa ehm ci si spinge ancora di più nelle discipline contemporanee motivo per il quale tra le prime materie del terzo anno figura la storia dell'arte contemporanea, la didattica della multimedialità, le metodologie didattiche di linguaggi audiovisivi eh ovvero didattica di linguaggi artistici e eh museologia e gestione dei sistemi espositivi. Il terzo laboratorio è quello dedicato alla scenografia. Naturalmente il terzo anno poi si caratterizza per gli studenti nella eh redazione della della prova finale quindi della della tesi di laurea che con appunto i suoi relativi eh crediti formativi farà conquistare ecco farà raggiungere agli studenti il monte ore totale delle di cento di cento stanto appunto eh CFU che gli consentiranno l'acquisizione appunto del diploma di primo di primo livello nella scuola di didattica dell'arte. Le prospettive occupazionali per quanto riguardano insomma ovviamente ehm estremamente importanti e anche estremamente caratterizzanti direi il corso di di didattica dell'arte e leggiamolo insieme. I diplomati del corso potranno svolgere con competenza ehm attività professionali nei diversi ambiti pubblici e privati come specialisti in grado di operare con flessibilità autonomamente e a fianco degli specialisti dei diversi settori del patrimonio culturale nell'organizzazione e allestimento di laboratori didattici di manifestazioni artistiche con particolare riguardo all'aspetto comunicativo e sociale sia nella curatela e predisposizione di supporti comunicativi degli eventi artistici. Esperienze sul campo che sono altrettanto fondamentali. Le accademie organizzeranno in accordo con enti pubblici e privati gli stage e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e definiranno ulteriormente per ogni corso di studio specifici modelli formativi. Naturalmente faremo poi un approfondimento per quanto riguarda ehm l'attività appunto dei laboratori e di tirocini. Perché scegliere la didattica dell'arte? Sceglierla se volete diventare degli specialisti nei diversi settori del patrimonio culturale, volete diventare degli esperti della didattica, volete diventare educatori dei servizi educativi museali, volete diventare insegnanti d'arte nelle scuole di ogni ordine e grado, volete diventare progettisti della comunicazione artistica. E qui naturalmente c'è una citazione del appunto dei padri della della didattica dell'arte ovvero Bruno Munari e eh naturalmente io eh per la preparazione di questo ehm estremamente chiaro e immediato ehm presentazione ringrazio la cultrice della materia Francesca 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 Tolomeo che appunto ha confezionato questo nostro primo contributo. Eh naturalmente la mia è stata spero di essere rientrata e di aver diciamo ecco eh tolto la condivisione dello schermo. Eh questa mia presentazione era naturalmente una presentazione estremamente generale e introduttiva. Eh adesso passo la parola alla professoressa Maria Vinella eh docente di pedagogia e didattica dell'arte e alla dottoressa Francesca Tolomeo cultrice di pedagogia e didattica dell'arte che entreranno nel nello specifico quelle che sono appunto le materie appunto di base e caratterizzanti del del triennio di di didattica dell'arte. Quindi io vi passo la parola, vi ringrazio e prego. Grazie, grazie professoressa Pirozzi. E allora prendo la parola sì per eh chiarire un po' i contenuti e le caratteristiche di alcune delle discipline di questo piano di studi illustrato eh immagino mi pare con chiarezza della professoressa Pirozzi che voi troverete comunque sul sito dell'Accademia di Belle Arti ogni qual volta vogliate controllare qualcosa. Allora i biai di studio eh per illustrare meglio alcune di queste discipline abbiamo predisposto dei materiali eh non dimentichiamo che questo è il dipartimento di comunicazione quindi abbiamo cercato di renderli più comunicativi possibili anche con l'aiuto appunto di Francesca Tolomeo che è stata studentessa all'Accademia di Belle Arti nel triennio, nel biennio, è stata tirocinante e poi cultrice della materia da qualche anno. Quindi lei sa abbastanza bene come funzionano poi eh le cose dell'Accademia per quello che riguarda le discipline e i piani di studio. Allora il triennio. Nel triennio come avete visto ogni anno è presente la storia dell'arte per cui si cerca di coprire tutto l'arco di quella che è la nostra storia dell'arte soprattutto italiana ed europea sin dall'arte antica per arrivare al contemporaneo nel triennio. Queste discipline poi nei bienni vengono sempre riprese ad esempio da professoressa Marino nel biennio insegna ultime tendenze in materia eh di grande eh attrattiva. Posso dire così? Professoressa Marino di grande attrattiva ecco. Ehm nel corso del triennio poi ci sono anche queste attività legate a discipline proprie di ehm di ehm di una tensione più legata ai laboratori. Avrete visto e sicuramente andrete anche ad approfondire questo al primo anno ben centocinquanta ore con scultura, nel secondo anno centocinquanta ore con pittura e poi centocinquanta ore con scenografia e capiremo a breve a che serviranno tutte queste attività ehm con tensione all'azione pratica. Perché non dimentichiamo che questo corso di studi vi permette di acquisire abilità e quindi eh saper fare e del e la parte teorica delle conoscenze. Perché entrambe ci serviranno, vi serviranno per essere competenti nella didattica dell'arte. Voglio adesso portare la vostra attenzione sulle discipline che sono proprie del secondo e terzo anno. Sono quattro discipline più quattro a carattere psicopedagogico e didattico. E didattico. Scusate. E quindi abbiamo didattica per il museo, didattica per la multimedialità, museologia e gestione dei sistemi espositivi. Noi ora vedremo un video su queste tre discipline, vedremo una serie di video nel giro di massimo trenta minuti, eh sono video brevi, due, tre, quattro minuti ognuno, che ci illustrano in maniera molto evidente quelli che sono i contenuti di queste discipline. Come ho già anticipato, vi permettono di conquistare abilità ma anche competenze. Che cosa vedremo nel primo video? Vedremo ehm quello che accade in alcuni musei italiani e internazionali, soprattutto per le attività di didattica museale. Vedremo i lavoratori creativi creati in alcuni musei, soprattutto il MUSMA di Matera, Museo della Scultura Contemporanea appunto di Matera, realizzati ehm da Francesca Tolomeo che eh ha lavorato in questi spazi espositivi come operatrice museale insieme ad altre eh persone. Eh poi vedremo il corso di didattica della multimedialità, il cui obiettivo principale è proprio la progettazione e ehm l'ideazione di metodologie innovative legate alle nuove tecnologie. Vedremo alcuni esempi di musei virtuali eh oggi grande e attrattiva per tutti quanti noi soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo. Vedremo dei tour tra le nuove infrastrutture digitali dei beni culturali necessari proprio per andare incontro alle giovani generazioni. Oggi come sappiamo anche l'uso dei social network è importante. Vedremo alcuni spezzoni di brevi video su TikTok del Museo Marta di Taranto e della Galleria degli Uffizi di Firenze. Infine qualche minuto sempre in questo video che ora andremo a mostrarvi sul corso di museologia e gestione dei sistemi espositivi. Questa è una disciplina ehm giovane nelle accademie e anche molto interessante che viene ehm affrontata anche se non come lo facciamo noi nei corsi di laurea di beni culturali universitari. Noi a determinate conoscenze aggiungiamo proprio perché siamo accademia molte eh abilità in più. Allora ehm vedremo a questo punto museologia, museologia, museografia, museotecnica dicevo i cui obiettivi sono l'analisi dello spazio museale, la gestione, l'organizzazione e la progettazione espositiva, con lezioni di marketing, visual design, exhibition design e così via. Io chiederei a Maya Mastromarino che voi non vedete ma che ci aiuta tantissimo ora nella nella gestione di questo spazio virtuale a mandare il video due. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. vicino. Grazie a tutti. a tutti. e poi vedremo. a tutti. abbiamo sviluppato. anche due workshop. che nelle nostre sempre da tutti. e da tutti. Gerardo di la presentazione la... a tutti. 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 e... a tutti. a tutti. a tutti. che riguarda, a tutti. a tutti. interroga, interno del programma, dell'ordinamento ufficiale, caratteristico, è stato un progetto. dell'acqua, l'insego, abbiamo abbiamo, pubblicato, di parlare, con dei piccolo, viaggi, competenze, e vi, in corso, intervento, di prati, e, 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 , e, 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 Grazie a tutti. Come è stato detto, come è stato ampiamente mostrato nella prima parte del nostro incontro, accanto alle materie teoriche che sono molto importanti all'interno del corso, voi avete una serie di materie di tipo laboratoriale, in particolare scultura al primo anno, pittura al secondo e scenografia al terzo, ci sono dei laboratori pratici, che sono molto importanti, sono stati concepiti proprio per l'acquisizione di competenze che potrete spendere nei vari indirizzi lavorativi che imprenderete a intraprendere all'interno delle scuole, all'interno della didattica museale, ma anche si faceva accenno per esempio anche all'interno poi di esperienze di allestimento, di appunto mostre, esposizioni che noi anche all'interno dell'Accademia proponiamo poi nel corso degli anni che voi potete sviluppare fuori. E a riguardo vi facciamo vedere un altro piccolo breve video che documenta un'esperienza molto importante per l'Accademia di Belle Arti di Bari, il premio nazionale delle arti di cui l'Accademia di Belle Arti è stata capofila organizzatrice nel 2013, che prevedeva appunto due mostre, cioè una mostra suddivisa in più sedi al Spazio Murat e Teatro Margherita di Bari, con studenti, una selezione di studenti di tutte le Accademie di Belle Arti italiane. E in questo video vi mostriamo così molto brevemente un backstage del premio nazionale delle arti, in cui appunto si può vedere chiaramente la presenza di molti studenti al lavoro appunto nel backstage, appunto nell'aiuto all'estimento e in un'esperienza che credo sia molto importante poi da poter spendere una volta che siete usciti da questa struttura. Quindi, Maira, facci vedere anche il backstage del premio nazionale delle arti, così poi ci avviamo alla conclusione. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.